ritorna il carosello suggerimenti all'acquisto per l'uomo moderno compra tutto tutto compra ecco il carosello carosello presenta i mari allora mario come stai io bene mario tu mario cosa mi racconti ma niente mario ieri sono riuscito con mario davvero e tu mario cosa hai fatto io sono andato a casa di mario mario chi il figlio di mario no di mario stiamo parlando dello stesso mario di mario ma mario chi mario quando si parla di nomi spesso ci si può confondere ma c'è un nome che mette tutti d'accordo cosa ti porto signori amaro mario amaro mario un nome qualunque per un amaro speciale sei svogliato non vuoi adempiere ai tuoi doveri penneno la penna che scrive meno mamma mamma non posso finire i compiti perché la penna non scrive più o povero vai pure a giocare e se qualcuno ti porce un'altra penna prova questa cappuccio penneno il cappuccio che trasforma una penna qualunque in una penneno mamma mamma neanche questa funziona allora torna pure a giocare penneno la penna che scrive meno nella desolata pianura patata il povero carmelone è in cerca di una donna desidero una donna una donna più che mai scusi lei una donna carmelone sono tuo nonno ma la ricerca proseguiva carmelone non mollare voglio una donna scusi lei una donna carmelone non lo vedi che sono un cactus ma almeno è un cactus donna no solo maschio ora vattene altrimenti ti pongo carmelone non si arrende e la ricerca riprende oh realmente una vera donna la voglio stavolta non mi sbaglio si ma per avermi devi pagare e se ne offrissi una cedrata maroni mi sciolgo i tuoi piedi e al diavolo i soldoni cedrata maroni la cedrata dei borconi è finito il carosello suggerimenti all'acquisto per l'uomo moderno compra tutto tutto compra quante bello il carosello è finito il carosello